ciao amici youtube sono dagori 69 oggi siamo qua su su sto gioco che non so che cazzo sia c'è vedendo dalle immagini sembra una brutta copia di qualche gioco abbastanza famoso vediamo insomma scusate ma ho il naso tappato come non so perché ho il naso chiuso ma porca puttana ok sto zitto guardiamo qua il video il trailer c'è provate a indovinare il gioco che assomiglia che insomma ha copiato come una merda sto gioco c'è si vede di stato lì ma adesso vediamo se indovinate l'avventura di uno dei maggiori esploratori del mondo Ibn Drusei ha scritto in account delle avventure di Ibn Battuta in un libro che si chiama Aurila è passato a noi per le generazioni il libro è ora trasladato e disponibile in storie già dal tavolo dovreste aver indovinato eccolo già dal tavolo qua uncharted 2 porca puttana ma io sto zitto ciò che si è avvenuto dal libro sono dettagli che esseranno a qualcosa di lusso, sfruttato e valutabile alcuni sono prontati a morirla arruzione, l'altro si killsà allora che? pensate? io farò hunterell'hi in ogni fila del mondo io farò imponare quals cusata in ogni deserto e quando si vede, li avrà me passare per morta Noi non ci sono soli in questa foresta. Si è armato da un armesdealer e fondato da un valutino antiquità smuggler. E credo che ci sono dopo una parte di quella scurita, scurita e valutica cosa? Sì, credo che così. qualcosa di così. Questa settimana... ... il migliorale segretario delle migliori anni... ... sarà... madonna che spalla oh mio dio per fortuna è solo oh mio dio che esplosioni ragazzi cazzo per fortuna è solo una demo cioè chi è così tanto stupido da comprarsi sti giochi cioè io non lo comprirò mai anche se se solo se me lo pagate voi me lo gioco sto gioco no cioè guarda che roba un charted è fatto ma guarda un earted c'è neanche sforzarsi a cambiare nome c'è proprio ma vaffanculo è un charted prodotto dagli slavi non sono razzista ma che cazzo dai se dovete fare un gioco fate l'originale e tutto adesso vediamo spero che sia solo la mia impressione che sia simile al charted speriamo oh mio dio che gente che esiste si un po' sta facile tanto è solo una demo ragazzi solo che questo fa l'ennesima merda cioè fa un gioco originale lo sta a copiare almeno sta a fa un'avventura originale è anche ferito come al charted e due solo che siamo dentro la casa no cioè è ferito madonna che cazzo ha fatto ho sparato poi che cazzo ha fatto madonna perché perché me la vado è ferito come al charted e due sono che qua cioè non sanno fare scene spettacolari allora sono stati costretti a farla qua cioè mio dio no no chi è il nemico qua anche questo di me non si capisce perché ci sono nemici anche con lo smoking pensavo che arrono solo c'è proprio la potenza su questa pistola c'è non parlo neanche ragazzi perché non mi piace di più ma perché ci sono anche quelle gravatte ma quanto ci dovete morire te cioè una mitragliata nella pancia dovresti morire eh pezzi che merda oh che cazzo succede ok stavo anche per morire che merda dai su che ci siamo su madonna quanto ci metti a morire tutto il caricatore ti devo buttare ecco anche ferito come al charted no non si può vedere c'è già un arted ecco quella stessa roba di un charted cioè non si può vedere ragazzi una roba del genere vabbè cioè non è che ho dei giochi indipendenti e tutta quella roba lì ma che cazzo almeno fate originali cioè fate un'avventura originale vabbè cioè non avete soldi per fare tutto chissà che roba di grafica va bene non ci sono problemi ma non copiare così guarda anche la medaglia è la moneta di un charted di un dio è la stessa roba che cazzo cos'è questo cosa vuole ha cercato anche di copiare i combattimenti che cazzo so che eh va bene insomma cos'è è anche un bicchiaduro adesso che merda poi reagiscono come delle mumbe cioè guarda vinto dai basta che rumore che rumore dai dai che slavo dai aladino dai dai ci sono sti sti cosa ti faria se eri io chiuderei il gioco ecco cosa farei cioè proprio già ho il naso chiuso più devo torturarmi giocando a sta roba si si forse è anche lo stesso tempo tentamo dopo gioco al charted 2 e vediamo quanto tempo forse ha copiato anche al charted 2 eh madonna che no forse no spero di no spero di no no spero di no no forse no spero di no le musichette sono anche carine almeno quello la grafica fa cacare cioè non ne parliamo vediamo qua faranno il dialogo la comico questo è questo è il tempio sì questo è quello 3560 anni di storia in questo posto devi essere careful e guardare le step le step le step vuoi dire che non non vieni con me faris 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 eh con le battute dei videogiochi ecco non c'è non è neanche la sua morose sua sorella c'è madonna io sarò monitorare il tuo movimento dentro il tempio e guidare il tuo passaggio io sarò la voce nella tua head bella bella una un'attività e un'attività è quello che si raffredda mi ricorda di nuovo cosa mi rischia la mia vita la tua vita e la mia preciosa questo è il terzo restare per l'Amos son di Ubana che guidò l'armi egyptiania per riuscire le hexose fuori d'Egypte nel 1525 BC come gratitudine il pharaoh ha chiesto la construzione di questo tempio per riuscire e l'Amos ha chiesto una locazione per la sua famiglia di Nekeb ma ve lo ho detto che bab ma che è così speciale sono sicuro che i robberi hanno chiesto la clean da anni fa hanno chiesto quello che pensano era valutabile ha chiesto due guadagher da una delle battaglie con i hexose si 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 mi dicevi i discorsi di due coglioni c'è non è che me ne frega più di tanto esatto un po' lo salto anche perché che cazzo me ne frega vabbè interessante tutto ma sarà andrà avanti mezz'ora vai in monna voglio giocare un po' un caricamento di mezz'ora e nanani cosa dovrai i melli di caricare caricare non c'è un cazzo ok siamo siamo nella caverna finalmente vediamo il posto segreto piccioni ciao piccioni wow che effetto dei piccioni ma questo sarebbe un posto segreto ma che cazzo di posto segreto è c'è aperto c'è uno passo con l'elicottero lo trova ma che cazzo di posto segreto è ragazzi c'è andato dentro un buco vabbè è l'unico passaggio ma se andavi con un elicottero la trovavi lo stesso vabbè forse lo sapevo già che c'era buco si è anche bugato prima vediamo qui si bugano si madonna cos'è quel vaso lì sembrava cartone c'è scusate ragazzi se so così l'umore così basso ma vedere queste cose proprio mi viene da vomitare già vi ho detto con il lancio chiuso non riesco neanche a parlare più mi vengono proposti si proposti sti giochi qua che proprio mi viene molto stomaco vediamo se forse si salva più avanti ma se si arrampica sto coglione dov'è la sporgenza è lì cazzo c'è non è che posso fare chissà che cosa vabbè dai faris farina lì come cazzo ti chiami allora allora vediamo se c'è qualcosa qua madonna ma non puoi fare ste animazioni anche dei vasi c'è cos'è cos'è peschi il rumore c'è sembra pieta non ha neanche il rumore dei vasi cazzo almeno neanche indovinare quello cos'è che cazzo è sì che cazzo ho fatto c'è se proprio si è mollato c'è cazzo è successo dai cazzo è che sicuro si vede neanche bene dai su vai faris farina oh vai gira ok no giravi non giravi c'è telecamera che va dove cazzo vuole c'è no ok telecamera in primo piano non mi ha fatto era era orribile ok dai salta ok perfetto dai vediamo oh 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 eh no cazzo c'è cos'è sto discorso come è morto poi che schifo c'è e ci deve anche caricare ma cosa devi caricare porca puttana non c'è niente da caricare non c'è grafica non c'è niente sei solo una coppia di merda ma dai che schifo c'è è andato dove cazzo voleva il personaggio si è mosso da solo ma dai che che merda vaffanculo chiude il video porca puttana ciao ciao ragazzi ciao